ciao a tutti amici e oggi facciamo un video che in molti diciamo così attendevano proprio perché dopo tanto tempo la notizia che era nell'aria che ne ho parlato anche nella mia pagina facebook e nei vari gruppi telegram dedicati asia notes ha definitivamente chiuso con questo messaggio tra l'altro anche abbastanza triste per chi si è affezionato questo sito che per tanti anni ci ha offerto previsioni gratuite che sono spesse volte andate a buon fine un po a me ricordava sempre quel film ritorno al futuro la parte seconda quando beef riesce a prendere il manuale delle scommesse che marty voleva praticamente gli ruba l'idea voleva portarsi dietro per andare a scommettere ovviamente nel futuro conoscendo già i risultati degli eventi sportivi asia notes mi ricordava sempre questa cosa perché ho visto veramente delle previsioni con partite che hanno cambiato forma in maniera incredibile visto delle rimonte sotto di tre gol finire in parità quindi rimonte clamoroso ho visto delle partite dove asia notes ci indicava un gol della squadra a casa o vittoria della squadra a casa o trasferta che magari durante la partita aveva preso tipo 20 tiri a zero al primo tiro segnavano cioè cose incredibili ho visto dei gol al novantesimo o all'ultimo minuto di recupero del primo tempo così come da previsione non mi sono mai fatto la domanda se realmente ci sia dietro qualcosa o meno mi interessa poco perché comunque alla fine l'importante era trovare un modo che decodificasse quei segnali che asia notes dava sicuramente il mercato asiatico lo è anche nel mondo del trading finanziario in quello delle criptovalute ha dei flussi di capitale nei movimenti che fanno pensare che parecchi affari girino intorno a questo mercato se pensiamo a i crolli che avvengono spesse volte nel trading i famosi fat finger ovvero quando praticamente ci sono degli spike fortissimi dei delle cadute delle dei flash crash come si chiamano in gergo sempre particolarmente nelle sessioni asiatiche le stesse criptovalute sostenute spesso da questo mercato principalmente e comunque anche i volumi scommessi che arrivano da questi bookmaker non accessibili in italia ma i cui spread sono invece accessibili tramite dei siti asia notes era uno di questi chiude e dice chi lo sa che in futuro non riusciremo a darvi qualche servizio free similare probabilmente i proprietari non sono più riusciti a sopperire ai costi per avere queste diciamo quotazioni tra l'altro 188 bet bet che era il bookmaker principale il più grosso che forniva questi servizi già aveva tolto le quote e quindi questo ha dato l'ammazzata finale era rimasto solo uno bet che era poca roba e quindi hanno chiuso e si sono tolti per cui niente più asia notes ma niente più asia notes significa il sito perché il metodo asiatico continua da altre parti loro per primi indicano il famoso book notes che è quello che già noi avevamo notato che io ho qui ovviamente c'è un discorso come vedete qua io ho l'abbonamento platinum e questo sito ha quattro tipi di abbonamento dal più costoso circa 67 69 euro mi pare a quello a 20 euro c'è la possibilità entrando nel mio canale telegram di provare una settimana gratuita del gold effettuando l'iscrizione al sito e quindi rendersi conto se vi può tornare utile come già vi ho detto ma book notes in particolare resta è un'alternativa uguale identica con un discorso di là avevamo 188 bet e 1 bet di cui abbiamo pinnecol che è un'istituzione in termini di bet 365 lo conosciamo tutti il free è 10 bet che vale 1 bet e soprattutto sbo bet che è un pochettino come volumi il top rispetto a 188 bet che era di là quindi resta comunque un'alternativa molto molto interessante poi ovviamente partiamo dal presupposto che non è che possiamo pretendere che tutte le partite rispettino le previsioni ed è per questo che approfittando di questa notizia ho deciso di fare un recap settimanale di quelli che sono stati gli eventi con l'interpretazione di asia nord i famosi back test che faccio sui risultati che mi servono per vedere se ci hanno preso o meno e lo facciamo sui tornei fondamentalmente principali usufruendo anche del contributo di diretta che ci dà i risultati della giornata appena trascorsa ovvero quella di domenica e quindi sui campionati principali fermo restando una cosa e questo ve lo dico per quelle che sono le mie strategie sui campionati principali i famosi gol al novantesimo e gol primo tempo i setup più strani che chi conosce l'interpretazione delle asia noz sa quali sono non è che si trovano questo dimostra ancora una volta ancora di più che evidentemente dove c'è chiamiamolo così più debolezza diciamo così dove ci sono delle situazioni un po particolari probabilmente i risultati si possono anche manipolare questa è prendetela con le pinze come dichiarazione io è quel che vedo cioè io se devo trovare dei risultati per esempio stamattina che ho giocato questa partita qua adesso ve la faccio vedere ho giocato questa partita qua eventi conclusi allora due partite ho giocato stamattina questa qui dell'indonesia molto interessante che era il bali united contro il pedang qua c'era un setup per un gol nell'ultimo quarto d'ora di asia noz e so con l'uno a zero con la possibilità tra l'altro questa squadra lotto ancora per salvarsi questo ormai è già campione d'indonesia pensavo anche un risultato di parità un risultato aggiustato in realtà l'ottantacinquesimo hanno chiuso due a zero comunque era un over 1.5 superiore a quota due molto interessante e poi l'altra più clamorosa ma questo è un campionato che ha già finito sotto inchieste diverse volte noa ararat aveva un setup per un gol nei minuti finali del primo tempo hanno dato un tempo di recupero esattamente di tre minuti al 48esimo su un x bet c'era anche lo streaming della partita il portiere su un calcio d'angolo ha piegato le mani già l'intervento non è che mi abbia diciamo così tolto i dubbi che ho spesse volte per queste cose comunque fatto sta che questa era una quota 3 per un primo tempo per un over 0.5 io comunque ero entrato onestamente a due a un quarto d'ora dalla fine con un over 0.5 a quota 2 comunque tanto per dirvi quello che volevo dire quindi in ogni modo sono solamente supposizioni poi ecco non facciamo vedere solo le vinte c'era anche un setup interessante su un'altra partita che era questa che prevedeva l'over 1.5 finale prevedeva un pareggio dello shirac questa per esempio non è non è entrata è finita 1 a 0 e anche qua ero entrato a quota 2 però quando fai tre scommesse una quota 2 l'altra 2 l'altra 2 fai 2 su 3 automaticamente con queste quote sei in positivo per modo di dire quindi questa per esempio non è entrata perché è inutile che vi faccia vedere solo cosa è entrato se no sembra troppo facile anche perché poi al fine non vi sto vendendo niente a livello di servizio sto cercando di fare un po di didattica e vi ricordo che c'è il mio gruppo telegram dove entrare lo trovate in descrizione potete scrivermi direttamente al mio contatto telegram comprensivo di una chat dove tutti gli utenti parlano e poi di un canale dove vengono fatte le proposte da me e dal mio staff coloro che diciamo così hanno un po più di preparazione su questa tematica poi se volete qualcosa di più professionale andare a copiare proprio le mie giocate quelle chiamiamolo così investimento se ne parla e vi faccio vedere qualcosa di ancora più interessante perché certe tipologie di setup per rispetto anche non tanto di chi vende i corsi perché io sono contro i corsi per esempio sul betting si va un po all'esagerazione diciamo però per chi comunque fa determinati studi è anche corretto che certe cose rimangano non dico tra pochi intimi però poi le cose i siti che chiudono come asia notes free perché chiudono perché ovviamente mancano dei soldi bisogna far quadrare dei conti quindi visto che tutti i siti diventano a pagamento se volete risparmiare l'abbonamento su questi tipi di siti volete qualcuno che vi dà i pronostici diciamo così le giocate giuste perché voi fate anche fatica a interpretare allora io dico un minimo di supporto a chi lo fa giustamente potete se volete darlo altrimenti ci sono la chat free e il canale libero e anche lì vi beccate quello che proponiamo che non è affatto male comunque passiamo un po alla situazione più tecnica quindi senza ragionare su campionati di un certo tipo poi faremo anche un resoconto sui campionati minori però guardiamoci la nostra serie a un pochettino che cosa diceva cosa dava asia notes comincio così dalla dal posticipo fino ad arrivare al sabato in ordine come me li da su bucozza è molto facile perché andate nella sezione past digitate il book che volete guardare in questo caso sbobet quindi scegliete one league all'interno di one league cliccate e andate praticamente a digitarvi qua i campionati che volete io ho messo la serie a poi a differenza di asia notes qui c'è anche il primo tempo come interpretazione asiatica insomma verona roma e io vi ho già detto io prendo in considerazione solo partite che hanno una variazione di spread quindi questa colonna qui da open a current oppure partite che hanno una variazione di quote senza variazione di spread ma con spread basso e sbilanciamento delle quote questo fa parte dei setup che poi io utilizzo a livello professionale e poi ci sono altri piccoli trucchetti ma ripeto queste sono cose a parte allora verona roma che apriva con un handicap meno 05 che a livello asiatico propende per un x2 diventava un favore roma perché andava meno 75 con la quota che si alzava ora la quota non diamo troppo importanza guardiamo sempre il bilanciamento il bilanciamento comunque non c'è più di tanto perché il bilanciamento intorno a 1 e 9 però non è nemmeno eccessivamente sbilanciata sale la total line cioè indica tre gol a partita propendono in questo caso per l'under e la money line ovvero l'abbassamento di quote fatto da sbobert propende per la roma quindi questo era un duo interessante da giocare pre match o live che il primo tempo stava finendo 1 a 1 prima per il rigore per la roma quindi c'erano buone opzioni il gol c'è stato non mi dava garanzie però con la quota non sbilanciata e favorevole comunque con questo handicap alla squadra a casa il gol era un'opzione non delle mie favorite quindi tutto sommato ci stava primo tempo non offriva assolutamente niente quote bilanciate spread basso non mi diceva niente napoli bologna che è una partita dove penso chiunque abbia giocata giocato uno in realtà asia noz da un bel allarme perché qua abbiamo un handicap importante che non varia ma che vede sempre il napoli sfavorito con questo handicap quindi un certo punto di vista ciò non dà l'uno così favorevole poi innanzitutto sbobert abbassa anche se di pochissimo la quota vittoria del bologna e abbiamo un over due e mezzo tre gol previsti quindi questa era una partita pulita pulita da gol non mi sarei mai azzardato dare il 2 al bologna però comunque il gol l'avrei dato quindi queste sono le opzioni che interpreto io poi i più ottimisti guardando la partita io non l'ho vista potevano avere anche delle indicazioni che unite al pronostico di adela e asia noz faceva giocare il 2 o l'x2 quando il napoli ha un vantaggio perché tenete presente che poi le partite e la parte statistica della stessa partita il momento delle due squadre va visto solitamente una squadra quando giochi in europa league in champions league o europa league che sia spesse volte il turno di campionato fatica e quindi il bologna tra l'altro è una squadra che gioca discretamente il napoli anche in un momento così così soprattutto in campionato quindi i presupposti c'erano tutti per non giocare almeno l'uno inter spala anche qua nessuna variazione di spread che indicazioni avevo quote salivano entrambe però l'inter veniva abbassata la quote intese come volumi l'inter comunque veniva data favorita c'era questa propensione all'over quindi con un bilanciamento perfetto con una total line alta a 3 questa era l'unica partita che mi piaceva come over 2.5 ed in effetti è finita 2 a 1 in generale però come risultati secchi o anche i gol in sé non mi convinceva poter anche finire 3 a 0 quella è l'unica giocata però come vedete quando c'è queste situazioni per me è no bet poi diciamo c'è magari un'opzione che si può tentare ma con tutte le partite che ho non la vado a cercare l'altra bruttina è la ziudinese con qualcosa di meglio perché apre nettamente a favore della lazio che però ha giocato in coppa e mi può lasciare dei dubbi ed infatti poi chiude la quota con un leggero favore del pronostico con questo handicap per l'udinese quindi quota che si abbassa qui diciamo propendono per l'over ma c'è una situazione comunque di alzamento della quota rispetto all'apertura e soprattutto non ci sono abbassamenti di quote ma solo quote alzate per la vittoria a lazio quindi tendenzialmente qui l'uno sarebbe stato un po' a rischio invece la partita finisce nettamente 3 a 0 sinceramente poteva questa partita ingannare da gol però attenzione c'è da dire questo che comunque il discorso rispetto al napoli è che anche qua quando l'handicap è comunque così elevato così netto diciamo così tra le due formazioni in questo caso 1 e 5 le quote comunque tendono a rimanere bilanciate con un handicap del genere quindi dovrebbe essere molto più favorita l'udinese era comunque una partita a mio avviso a rischio io qua personalmente avrei potuto anche sbagliare ero tentato di giocare il gol dell'udinese però handicap così alto per i miei standard è da no bet quindi anche questa era una partita bruttina molto molto bella e qui vi do un suggerimento notevole che qualcuno che riesce a interpretare sicuramente ne farà tesoro parma milan è una delle mie partite preferite perché attenzione spread basso e questo è un presupposto fondamentale quote sbilanciate che variano ancora più sbilanciate non ancora i livelli di garanzia queste poi sono informazioni ripeto che vanno per chi è più un utente pro over con la total line che però diminuisce quindi attenzione che comunque la partita rimane ancorata un discorso di under 2.5 però scusate di over 2.5 però diminuisce per qualche rigore dall'handicap asiatico la probabilità del terzo gol ma a noi interessa relativamente e sbo bet che abbassa la quota per il milan questa partita qui è stata sbloccata tre minuti dalla fine questo per me è la giocata più bella l'over 0.5 live dopo il 75esimo minuto questa è la giocata top dei top quota fantastica una giocata così al giorno se ci fosse vale sempre come interpretare la partita in parità partita meno non c'è un risultato che ti possa dire di più chiaro che più la partita è in equilibrio più quell'equilibrio può essere spezzato se fosse stata sullo 0.2 non avrei giocato in questo caso l'over 2.5 perché già me lo sconsigliava la total line quindi attenzione anche a quanto stanno Juve e Sassuolo vediamo se avevano preso la sorpresa a mio avviso no perché comunque allora la quota apre bilanciata con un handicap 1.5 strafavorita la Juve che la quota è crollata prevedevano oltre tre gol e mezzo 4 gol anche se c'era comunque una quota sfavorevole in più l'handicap scende l'unica cosa che poteva essere un alert di una partita che come vi ho detto con la zeta di Alkmaar col partizan nessuno va a giocare la Juve a quote così bassa l'unica cosa che poteva far propendere per una sorpresa tipo un gol Sassuolo o magari comunque una partita che se uno ci vuole buttare 2 euro poteva rischiare che la quota Juve con questo handicap sale e quella Sassuolo non si muove quindi comunque poteva anche essere una partita che lasciava qualche dubbio però francamente per me questa non è un'interpretazione che mi fa presagire una sorpresa a parte che io partite dove c'è la favorita così a quota a terra e handicap superiore da 1.5 in su a meno che non ci sia un altro tipo di impostazione dove mi posso giocare il gol ma mi è capitato in campionati come l'australiano in una serie a non l'avrei comunque giocata più interessante fiorentina lecce perché un altro caso da non sotto la nota di ora mi sto concentrando sui full time l'alt time lo lasciamo per un'altra volta che comunque un'opzione che bucoz ci dà in più rispetto ad asianozza allora qui apertura a meno 1.25 quote equilibrate quindi gran favore per la per la fiorentina poi però l'handicap cambia e cresce a favore del lecce con quote che rimangono comunque sbilanciate quindi teoricamente questa per me è una partita trappola perché quando fanno così molti si fanno influenzare da questo movimento tra l'altro abbiamo previsione di tre gol con quota abbastanza limite ma tendente all'under e però qui viene alzata la quota fiorentina abbassata quella lecce ora da qui a giocare la vittoria del lecce ce ne vuole e io infatti non l'avrei giocata però se guardiamo la crisi fiorentina e il buon momento del lecce che ha messo in difficoltà tantissime altre squadre tra cui la juve stessa e ha anche fatto una bella rimonta col cagliari prima della sosta sicuramente con una modifica di spread perché di base per me è solo la modifica di spread che mi va a interessare un gol lecce ci stava tutto quindi gol trasferta l'altro bel esempio come il milan e genoa torino anche qui spettacolo apertura sbilanciata senza handicap spread basso addirittura variato quote in movimento anche qua pochi gol under 2 5 ma comunque over con meno probabilità del terzo gol le quote in questo caso non toccate anche qua il gol è avvenuto nel finale se non sbaglio al 77esimo del torino altro esempio di over 0 5 live stupendo le due partite più belle di questa settimana erano parma milan e genua torino vi parlo per le mie giocate non per per chi ha altre strategie diverse infine breccia atalanta nessuna variazione di spread ma continui movimenti sui volumi che andavano a favorire con un handicap del genere sempre di più l'atalanta che ha vinto 3 a 0 corrisponde anche alle previsioni della total line soprattutto sbobet aveva tagliato di tanto la quota dell'atalanta partita che non è mai stata assolutamente in discussione quindi tutto sommato sbobet e comunque il metodo asiatico e comunque bucoz con la serie a come si è comportato secondo me benone non ha previsto magari pienamente dei risultati su qualcuno era danobet ma c'erano alcune giocate che veramente valevano la pena soprattutto quelle col mio setup preferito che è un setup asian da giocare per i gol live però alcune giocate come quella del napoli bologna è notevole molto interessante così come secondo me anche quella del lecce e le due genua torino e parma milan anche stupende poi non ho trovato granché di interessante la roma live da giocare soprattutto il due non era male un po come col monsenglaba che in coppa l'avevano preso bene quel due con questo momento quindi un movimento simile per cui secondo me sulla serie a sono andati bene ma vediamo qualche altro campionato magari abbiamo degli appassionati di premier league vediamo com'è andata la premier league nei suoi eventi principali premier league eccola qua come lavora sbobet controllate sempre di avere sbobet togliamo gli half time così almeno acceleriamo meglio e andiamo a vederci tutte le partite del weekend premier quindi tra primo dicembre il 30 di novembre a partire dall'eister leister everton anche qua solo variazione l'handica bilanciato a favore dell'eister addirittura la quota scende partita dove anche i volumi cominciano a spingere per un over si abbassa la quota l'eister qui l'everton è stato in vantaggio 1 a 0 per parecchio tempo l'uno live o comunque l'over 1.5 il gol entrambe tutti i tipi di giocate qua con l'eister ci stavano veramente tutte poi conoscendo anche le due squadre l'eister sta facendo un grande campionato united a stone villa finita 2 a 2 col manchester che arrivava da una partita inutile di coppa ma che comunque pareggia vede allora quote sbilanciatissime con questo spread poi anche e che comunque dava vantaggio alla stone villa ancora pre match scendono ovviamente a dimostrare che col manchester c'è un riavvicinamento ma comunque tendono a favorire la stone villa il meno 1.25 è quello spread che ancora prendo in considerazione spingono sull'over con total line aumento e over scende la quota abbassano la quota del manchester quindi tutto sommato questa partita da gol era veramente interessante perché lo spread e le quote a favore della stone villa il manchester comunque che non cedeva l'handicap comunque ampio quindi e la total line alta era difficile con una total line alta 3 gol tutti da parte del manchester quindi va anche visto quanti gol prevedono e pensare in base all'handicap la differenza quindi un 3 a 0 per quello che ci dava non ci stava quindi era più magari un 2 a 1 poi è finita addirittura 2 a 2 ma il gol era chiaramente cioè chiaramente voglio dire chiaramente era probabilmente la giocata più interessante poi ovviamente da qui a dire che era facile prevederla un altro discorso però i ragionamenti che sto facendo quadra non è che li faccio col senno del poi li faccio come vanno fatti pre match questo il discorso norwich arsenal qui abbiamo avuto un quote sbilanciate con ovviamente l'handicap a favore dell'arsenal che poi cambiano completamente e quindi vanno diciamo così a fare un po quello che era il discorso dell'eister vanno ad accorciare a vedere l'arsenal favorito prevedono oltre tre gol con una total line da tre gol e mezzo quindi da quasi quattro gol over previsto abbassano la quota arsenal anche qua se prevedono tre gol con un handicap 0 75 non è una partita da 0 3 quindi anche qui gol sapendo che l'arsenal ha anche giocato con l'intrack in settimana ci stava tutto questa era un'altra partita dove il gol era una bella giocata questi non sono setup da gol sono solo fondamentalmente previsioni matematiche basate sui volumi vedete come io la leggo tutta la colonna la riga non vado a guardare solo alcune variabili perché tutto mi deve quadrare dove non mi quadra come il caso di lazio udinese nella serie a non la gioco per esempio wald wear hampton sheffield anche qui qui gli wolves hanno giocato allora qua lo spread partita bilanciatissima quindi quasi da pareggio visto il tipo di spread caso strano è finita uno a uno total line in diminuzione però da over quindi i gol ci sono abbassano ovviamente la quota dello sheffield che tra l'altro non ha giocato in settimana qui lo spread scende come piace a me allora siccome questa io non l'ho seguita sono curioso di vedere quando ha segnato così almeno vedete che i ragionamenti che faccio li faccio anche proprio sulla base di quel che leggo il gol nel secondo tempo da parte del wald wear hampton è arrivato al 64esimo quindi dopo il primo quarto d'ora quando la quota era già interessante quindi live era molto interessante col mio setup preferito l'over 1.5 dal punto di vista del del pronostico è chiaramente lo sheffield era favorito perché il suo handicap scendeva quindi quota favorevole quindi gol sheffield o x2 ci stava tutto premesso che la giocata 0.25 con i segni 0 e 0.25 non va fatta ma bisogna stare solo sui gol da più 0.5 in su cominciano le doppie e poi da 0.75 in su le fisse quindi ecco perché il tipo di giocata sarebbe stato così southampton watford apre col setup che piace a me anche molto bilanciato però poi chiude con una quota che un handicap aumentato per la squadra trasferta quindi nonostante la quota sfavorevole i favori del pronosticano tutti per il southampton anche qui l'over 2.5 quota abbassata per il southampton che vince 2 a 1 quindi questa tutto sommato anche molto interessante barley apre praticamente anche qua spread che piace a me cambia nuovamente sempre a favore del barley in questo caso andiamo a vedere quale può essere una differenza fra queste due partite è identica con la differenza che qui vince il southampton qui vince il barley praticamente succede la stessa identica cosa diciamo così con l'abbassamento della quota nonostante aumenti l'handicap la possibilità dell'over e l'abbassamento della quota barley questa per me è una partita che andava in loss sbagliata perché la giocata era la stessa del southampton io col crystal palace avanti 1 a 0 a parte provare a giocare l'over 1.5 potevo veramente rischiare il gol entrambe o l'1x live questa non entrava questa è una previsione di asia noz sbagliata tra le due stesse identiche due risultati diversi questa è andata male assolutamente questa è una partita che non corrisponde tipico esempio di partita che non segue nessuna logica tutta allineata per un tipo di risultato va completamente al contrario questa è una partita sbagliata da loro ovviamente non da noi noi qui avremmo interpretato giusto perché è la stessa interpretazione di southampton watford ma questa non è la bibbia ovviamente celsi e west ham vediamo un po handicap nettamente a favore del celsi aumenta aumenta quote tutto sommato bilanciate quindi strafavorito il celsi qui danno tre gole mezzo con quote bilanciate ma leggermente in diminuzione vengono alzate le quote di tutte e tre celsi arriva da una partita qui diciamo così con l'handicap 1.75 io già questa partita non l'avrei giocata come ho detto sopra 1.25 non le gioco e mi sarei evitato una sorpresa perché anche questa partita qua risponde a ben poche logiche anche se qui una certa attenzione la do alla money line che alzando tutte e tre le quote mi indica una tipica partita da tripla per cui sinceramente vuol dire che non c'erano molto le idee chiare su questa partita è più da no bet rispetto al barley che invece è completamente centrata per i parametri tutti in linea liverpool con quote sbilanciate con questo tipo di handicap si sbilanciano ulteriormente ma a favore del liverpool che ovviamente con un handicap del genere vede ridotta la sua quota over che ci sta tutto da tre gol in su e quota abbassatissima per il libero pool vince 2 a 1 adesso non so le dinamiche live ma anche qua è andata abbastanza bene tottenham nettamente favorito in apertura qui anche l'handicap aumenta la quota rimane bilanciata con un handicap del genere quindi vuol comunque dire che porta il favore del pronostico per il tottenham over più di tre gol quota abbassata tre a due qua rientra perfettamente nel discorso e poi abbiamo il newcastle contro il manchester city questa è stata una benza sorpresa allora qua l'handicap quote sbilanciate ovviamente con il city nettamente favorito però poi cambia tutto si inverte la situazione con un over e quindi qui attenzione perché stranamente qua alzano la quota del newcastle ma alzano leggermente anche la quota del manchester city allora partita dove giocare il city non c'era convenienza perché ovviamente era troppo bassa partita che con handicap superiore a 1.25 io personalmente non gioco c'era la possibilità eventualmente di giocare un gol newcastle come si poteva prevedere allora davano l'over 3.5 quindi almeno 4 gol quindi con quest'handica per una partita da 0-4 deve essere una partita da 3 a 1 quindi tutto sommato qui il gol entrambe o il gol newcastle si poteva giocare sempre con un calcolo pressoché matematico quindi secondo me questa è una partita che si poteva giocare quel tipo di risultato 2 a 2 sicuramente no non l'avrei mai detto che poi comunque il city non è che stia facendo faville facciamoci ancora un campionato magari tra quelli più popolari altrimenti poi vado troppo per le lunghe ci vorrebbe veramente fare tantissimi video per vedere tutto ma restiamo comunque su campionati popolari andiamo a vederci una Bundesliga Bundesliga anche qua togliendo io ho aggiunti gli halftime perché comunque rimaneva sbobete è rimasto halftime vediamo un pochettino la Bundesliga anche qui Wolfsburg-Werder Bremen pattern che mi piace lo chiamo pattern setup quel che volete qui la situazione ancora con quote che si sbilanciano di molto previste almeno tre gol anche se prevalenza per l'under Wolfsburg abbassamento di quota allora io qua la partita l'avevo seguita poco però primo tempo 1 a 2 vediamo i gol del secondo tempo eccolo qua al 73esimo il gol del 2 a 2 quindi questo è uno dei casi come Parma-Milan che nel secondo tempo nonostante il punteggio era 1 a 2 giocare il gol Wolfsburg poteva essere pericoloso poi comunque ha perso 3 a 2 ma giocare l'over 3.5 live era molto molto interessante sempre per quel setup che vi dicevo Mönchengladbach apre nettamente a favore del pronostico crolla l'handicap ancora più a suo favore quote che rimangono bilanciate qua spinge comunque per un tre gol non pieni ma comunque tre gol quota che crollava era in svantaggio se non sbaglio anche col Friburgo in vantaggio anche qua era un 1 giocato molto bene molto molto interessante il Bayern Monaco che è andato a perdere 2 a 1 con l'Everkusen allora qui quote sbilanciate con ovviamente due gol di scarto per il Bayern rimane tale l'handicap e addirittura scende la quota quindi qui non c'erano i sentori ovviamente della vittoria dell'Everkusen veniva addirittura alzata la quota del pareggio l'unica cosa che si poteva fare in una partita con che io non gioco mai lo ripeto ancora con gli spread così alti era che anche qua vedevano 4 gol però giocavano un under 3 e 5 quindi 3 gol e qua diventava veramente difficile pensare anche al gol dell'Everkusen ci poteva stare nettamente anche il 3 a 0 i più ottimisti potevano forse giocarlo però secondo me questa è una partita proposta veramente male ma tutte quelle con questi handicap così esagerati rischiano solo di far sbagliare sinceramente come potete vedere l'Offenheim ha avuto invece un handicap in diminuzione con quota che si è alzata a favore del Fortuna Düsseldorf anche qui 3 gol non pieni ma over quando la quota viene abbassata dell'X2 questa era una chiara partita da gol con un handicap di questo tipo per cui molto interessante Offenheim Fortuna l'Herta di Berlino partiva con la quota favorevole con questo tipo di handicap qua praticamente rimaneva la stessa situazione ma le quote si invertivano bilanciamento quindi comunque l'handicap era del Borussia Dortmund in questo caso bilanciamento delle quote vuol dire che con l'handicap il Borussia è nettamente favorito over e veniva abbassata però la quota sia dell'Erta che del Borussia quindi ci stava sicuramente il gol e ovviamente ci stava più la vittoria del Borussia perché non ho visto com'è andata la partita che tipo di andamento c'è stato però in caso di parità ci stava veramente un gol una vittoria Borussia live partita molto molto bilanciata come quote ma con handicap 0.5 per il Colonia comunque una partita da 1x anche qua over le quote non vengono tutte alzate l'unica cosa è che l'Augsburg ha poi dopo un'inversione delle quote con un po' di sbilanciamento quindi anche qui il gol ci poteva stare benissimo vista anche l'impostazione tra total line e quota Paderborn parte nettamente sfavorito vantaggio per il Lipsia la situazione degenera ancora di più con quote che con un handicap del genere non si mantengono assolutamente bilanciate ovviamente questo fatto unito ai 3.75 previsti all'over con ancora le quote abbassate di entrambe dà sicuramente la possibilità di giocare il gol rispetto al 2 molto più interessante e infine lo Schalke ha un bilanciamento delle quote solamente con un handicap di 0.75 poi addirittura le quote diventano favorevoli allo Schalke sempre con questo tipo di handicap propensione all'over non 3 gol pieni quote in questo caso vengono alzate di entrambe le due squadre però onestamente di poca roba e anzi viene alzata di tantissimo quella dell'Union Berlino l'unico rischio poteva essere magari un pareggio sorpresa infatti partita tirata ma lo Schalke rispetta il pronostico e vince 2 a 1 quindi tutto sommato anche qua ancora una volta i punti deboli si rivelano le partite con handicap molto elevati quando ci sono di mezzo le big e le partite più interessanti quelle con spread basso per gli over live mentre quelle da gol andando a sommare tutti gli aspetti fra total line e money line con handicap intermedi sono quelle anche che hanno un bel rapporto tra il rischio e il rendimento quindi secondo me interessanti secondo me ci possiamo fare anche la Spagna così completiamo quelli che sono tutti i campionati principali ovviamente poi faremo una sezione a parte per quei campionati che vi dicevo danno vita a curiosità piuttosto strane per cui comunque c'erano partite di cartello Atletico Madrid, Barcellona, spread basso come piace a me per un gol nel finale con quote che si bilanciavano ancora di più rispetto a quello che erano perché ovviamente erano sbilanciate a favore del Barcellona comunque l'over veniva giocato con una possibilità di gol qui ieri me la sono persa nel senso che mi sono dedicato a fare altro vediamo quando ha segnato il Barcellona che ha vinto 1 a 0 andato a segnare, guarda caso, messi all'ottantaseiesimo altra figata di impostazione grafica spread basso, quote sarebbe stato meglio sbilanciate sicuramente perché in realtà qui la rischi ma non c'è quel presupposto qui si bilanciano, erano meglio così nemmeno troppo perché c'è un trucco particolare però corrispondeva anche questo parametro non corrispondeva qua però comunque è andata sempre con quel principio il Getafe, dato favorito, vince nettamente 4 a 0 con quote bilanciate aumentando l'handicap over e quota quindi niente da dire Espagnol, anche qua pattern preferito quote che si sbilanciano live 2 a 4, over e Osasuna che vince 4 a 2 in effetti quota abbassata qui sinceramente devo andare a vedere il secondo tempo perché con quel tipo di dinamica devo vedere un po' come stava la partita allora al primo tempo si è concluso 1 a 0 poi dopo nel secondo tempo erano 2 a 1 e sono arrivati la bellezza di 3 gol nel finale quando c'è quel tipo di discorso spread basso e quote sbilanciate il gol nel finale normalmente dopo il 75esimo minuto è garantito in effetti ne sono arrivati ben 3 ma qualsiasi over che aveste preso vi avrebbe dato delle soddisfazioni e ovviamente bisogna seguire la partita Atletic Granada bilanciato con spread a favore del Bilbao poi le quote si sbilanciano nettamente ma questo non toglie i favori del pronostico per la squadra di casa anche perché non sono previsti over con un abbassamento di quota tutto sommato importante per il Granada se proprio proprio vogliamo dirla tutta qui che non mi convince il gol del Granada è l'impostazione under e quindi con una partita tirata così 2 a 0 vince il Bilbao non l'avrei giocata personalmente ma comunque ci stava Siviglia bilanciato con questo spread ancora più bilanciato poi ancora più bilanciato ma comunque in generale partita tirata da under anche qua poco chiara però comunque ha segnato nel secondo tempo l'1 a 0 non era da over 0,5 perché non c'è lo spread basso però continuava a essere da gol Siviglia quindi gol squadra casa o 1 finale Valencia-Villareale era da gol perché l'ho giocata e l'ho presa qui lo spread era basso ma poi si alza si alza ovviamente a favore del Valencia però c'è un bel equilibrio di quote come piace a me un over con total line aumentata tutti i presupposti scende la quota del Valencia ma comunque qua il gol ci stava tutto hanno fatto 1-1 2 gol nel secondo tempo questa me l'ero presa direttamente giocandomela qua spread 0 quindi interessante per la mia giocata preferita quote sbilanciate che si bilanciano però qui attenzione non ci sono grandi presupposti Mallorca-Betis questa è una partita del sabato quindi dobbiamo scorrere indietro e andare a vedere Mallorca-Betis il secondo tempo come è finito secondo tempo hanno fatto due gol vediamo se li hanno fatti dopo la mezz'ora e abbiamo invece no, hanno fatto un solo gol al cinquantacinquesimo questo che comunque non era troppo interessante perché le quote non erano sbilanciate quindi già mancava un presupposto inoltre c'è una total line per l'under c'era il gol Betis eventualmente per l'abbassamento siccome una delle due segna con uno spread così basso il gol Betis poteva starci con l'abbassamento di quota poi abbiamo Sociedad-Eibar bilanciata anche questa favore per la Real Sociedad che poi si abbassa nettamente la quota over abbassa la quota Sbobet 4 a 1 netto bella lettura ultima partita la VES-Real Madrid qui favori del pronostico ovviamente quote bilanciate con spread 1 e 25 che ancora mi piace poi dopo arriva questa breve variazione che se era accompagnata da un over era meglio con tre gol invece c'è l'under e le quote salite di tutte e quindi qui c'è stato il gol alla VES come prevede questa impostazione grafica ma non era confermato da Total Line e Money Line quindi non l'avrei giocata fermo restando che però il Real Madrid era favorito e quindi comunque la vittoria live magari in caso di crescita di quota ci stava tutta quindi anche qua analisi perfettamente rispettate con i dovuti modi per cui secondo me Bukhoz ha fatto ancora un grandissimo lavoro chiudiamo qui questa analisi ringraziamo ancora Asia Noz per le gioie che ci ha dato ma il metodo asiatico non sparisce con Asia Noz anzi assolutamente va avanti non c'è solo Bukhoz ci sono altri software altre cose io ho trovato questo molto interessante perché ripercorre le stesse cose perché ha dei bookmaker molto interessanti magari poi faremo la prova anche vedendo cosa propone Pinnecol o Bet365 insomma tante carne al fuoco dipende sempre dal vostro gradimento fatemelo sapere con un like con un commento contattandomi direttamente su Telegram entrando nel gruppo insomma tutto quello che avete a disposizione per dare continuità a questa tematica io penso di aver fatto un video che gratuitamente vi dà davvero delle basi molto molto interessanti ma vi dico la cosa più importante non pensate di andare a giocarvi tutte le partite che vedete pronosticate dai metodi asiatici perché sicuramente non riuscirete a essere profittevoli in giornate vi servono due tre giocate massimo mirate col giusto capitale col giusto stake con il giusto bilanciamento della vostra cassa e allora farete profitto se pensate di andare a prendere Bukoz metodo asiatico come una garanzia tutte le partite e le prendete assolutamente non è così e quest'analisi serviva per dimostrarvi quello soprattutto prima di giocare se non siete pratici del metodo fate i test come faccio io andate a vedere soprattutto se avete capito sfruttando lo storico storico che avete a vostra disposizione per cui più di così non c'è altra possibilità avete anche la prova gratuita di una settimana del gold poi sta a voi decidere se pagare o meno altrimenti avete la versione free con 10 bet che comunque stesso discorso è un Buk a basso volume più o meno qualcosina come dava 1 bet per Asian lo dà per me 10 bet è così così però quando l'ho usato anche a livello free è interessante ne parleremo poi per il tennis quando riprenderà la stagione perché ci sono cose molto interessanti anche abbinate ai volumi sul tennis che ho scoperto che sono davvero da vedere grazie ancora per l'attenzione aspetto i vostri feedback ci vediamo sempre qui ai prossimi video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti